Presentiamo ACP, la placca anteriore cervicale di Sintea Plustec, indicata per favorire una solida artrodesi vertebrale nel tratto cervicale della colonna attraverso un approccio anteriore. Essa può essere utilizzata in caso di instabilità cervicale dovuta a varie patologie traumatiche degenerative, neoplasie, stenosi e pseudoartrosi. Le placche per la stabilizzazione cervicale sono disponibili in differenti taglie e con diversi interassi, permettendo così di stabilizzare corpi vertebrali da 1 a 5 livelli e con differente anatomia. Le viti sono disponibili in versione autoforante con diametro 4 mm, autofilettante con diametro 4 mm e autofilettanti da recupero con diametro pari a 4,5 mm. Sono presenti 5 lunghezze, 10, 12, 14, 16 e 18 mm. Le principali caratteristiche tecniche del dispositivo includono il sistema di antimigrazione dato da un anello deformabile che blocca le viti all'interno della placca, i fori per inserire i pin temporanei, la connessione della placca con l'holder, un'ampia finestra per la visualizzazione anatomica del sito di impianto, profilo anatomico con raggio di curvatura di 28 mm e il fatto che le viti possano essere inserite variando nell'angolazione. Rispetto alle soluzioni offerte dalla concorrenza, il sistema di antimigrazione di ACP è integrato nel dispositivo e non è necessario ricorrere a componenti aggiuntivi. Inoltre garantisce sicurezza, spessore uniforme del dispositivo e una riduzione del tempo operatorio. Il set di strumenti per l'impianto di ACP è composto da guide, porta impianto, porta pin, punte ruoli, maschiatore, sonda, cacciavite, calibro e piega placca. Il primo step della tecnica chirurgica per l'impianto di ACP prevede il posizionamento del paziente in posizione supina sul tavolo operatorio e l'esposizione di corpi vertebrali. È necessario selezionare poi con il calibro la placca della dimensione più appropriata. La placca può essere poi modellata con lo strumento apposito. Il piega placca è utilizzato per dare alla placca la corretta curvatura lordotica, per meglio adattarla all'anatomia del tratto cervicale del paziente. Dopo aver posizionato la placca nell'appropriata posizione utilizzando il porta impianto, inserire i pin temporanei nei fori all'estremità della placca utilizzando l'apposito porta pin per svolgere l'operazione facilmente e in sicurezza. In seguito, utilizzare le guide di foratura in situ per assicurare la corretta traiettoria delle viti, applicare la guida sulla placca e poi inserire il punto ruolo e il maschiatore per creare il foro. Dopo aver rimosso la guida di foratura, inserire le viti nei fori utilizzando l'apposito cacciavite. La procedura va ripetuta per le restanti viti e infine si rimuovono i pin temporanei, ottenendo così la configurazione finale.